Qual è la situazione dei piani antincendio all'interno di Villa Serena? Lo avevamo chiesto qualche giorno fa in un servizio e nessuno dall'ISAC o dal municipio ha ritenuto di rispondere alla nostra domanda. Una domanda lecita che dava il via a un'inchiesta sullo stato della progettazione dell'adeguamento antincendio della casa di riposo bassanese e che partiva dall'affidamento da parte del consiglio di amministrazione dell'ISAC avvenuto in data 25 ottobre di un incarico professionale per la progettazione dell'adeguamento antincendio di Villa Serena ai sensi del decreto ministeriale del 19 marzo 2015. Era stato affidato a uno studio di progettazione. Costo dell'incarico 36.000 euro e spiccioli. Nella precedente puntata si era visto, stando ai documenti in nostro possesso, che i vigili del fuoco avevano rimandato al mittente le pratiche nel giugno del 2018 perché mancavano alcuni dettagli ritenuti importanti dal comando provinciale. Nell'ottobre dello stesso anno l'ufficio tecnico dell'ISAC prendeva atto delle risposte dei vigili del fuoco avvertendo che probabilmente i lavori di adeguamento non sarebbero stati completati entro la scadenza dell'aprile del 2019. Quasi due anni prima lo stesso ufficio aveva scritto al direttore una nota in cui venivano posti i dubbi sul progetto che sarebbe stato in seguito presentato e del quale vorremmo conoscere l'esito finale. Si insiste sulla necessità di formare un gruppo ristretto di dipendenti cui affidare mansioni relative alla sicurezza antincendio, nonostante questa soluzione sia già stata più volte ritenuta inapplicabile a causa delle turnazioni, scriveva l'ufficio. A Villa Serena è prevista la presenza di almeno 15 addetti, un responsabile della sicurezza antincendio, 8 addetti compartimenti, 7 della squadra antincendio. Attualmente ne sono presenti in servizio 10. A Carezzonico è prevista anche nelle ore notture la presenza di 11 addetti. Normalmente ne sono presenti 7, questo scriveva l'ufficio tecnico. Su queste basi si moltiplicano le domande che giriamo quindi ai vertici dell'ISAC e al comune in quanto referente pubblico delle case di riposo passanesi. E chiediamo ancora una volta qual è il destino di quel progetto antincendio è stato approvato o si è arenato definitivamente.